E viene in posta una tasca, tutti gli studenti che già pagano migliaia e migliaia di tasse di euro all'anno per venire qui all'università, se non parlo, 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 non parlo. Il problema qui è la testa parcheggio, che da anni è dal 2009 che gli studenti dicono che la testa parcheggio non la vogliono, e invece, beffa, danno, senza prendere in considerazione, senza processi partecipativi, il rettore, la sua governance e tutti decidono che questo posto diventare privato, deve diventare un posto per mettere profitto solo nelle tasche di privati e delle governance dell'università. Questo da parte nostra è inaccettabile, saremo qui, da quando vediamo i lavori, staremo qui a Premontè, i tornelli saranno montati, saremo qui pronti a smontarli, questa è la cosa che volevo dire oggi no. Non c'è niente da inaugurare, e parlo con lei, scusi, prima di montare quel car sharing, pensate a sistemare le linee degli autobus che non funzionano, pensate ad abbassare i costi per gli studenti e a fare degli abbonamenti che siano accessibili a tutti gli studenti e a tutte le fasce della popolazione che...